Le nuove regole per la quarantena scuola che entreranno in vigore domani riguarderanno tutti e anche le migliaia di studenti che sono già a casa in didattica a distanza perché nelle loro classi si sono riscontrati casi di positività. Le nuove norme che di fatto dicono quasi addio alla didattica a distanza sono infatti retroattive e dunque già da domani lunedì dovranno rientrare a scuola tutti gli studenti vaccinati o guariti delle scuole elementari che si ritrovano in classe più di 5 compagni positivi e tutti quelli delle medie e delle scuole secondarie che hanno almeno due casi positivi. In classe torneranno anche moltissimi bambini dell'asilo. Le nuove norme infatti alzano a 5 casi, il minimo per la DAD, quindi le classi che erano già a casa per un solo positivo dovranno tornare a scuola già da lunedì. Rientro in aula anche per chi è in quarantena, da almeno 5 giorni avrebbe dovuto farne altri 5. Con il dimenzamento dei tempi della DAD rientro anticipato per tutti ma solo dopo l'esito negativo di un tappone. Così chiariscono le FAQ pubblicate nelle ultime ore dal Ministero della Pubblica Istruzione per chiarire alcuni punti oscuri sulla gestione dei casi positivi che erano stati originati proprio in considerazione dell'entrata in vigore delle nuove norme del decreto.